È durata circa 20 ore la quarantena del reparto di ginecologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. La paziente è arrivata ieri con la febbre in reparto, infatti è risultata negativa al coronavirus e il direttore sanitario che per precauzione aveva chiuso ginecologia con all'interno il personale sanitario isolato alla paziente questa mattina ha disposto a riapertura. Nessun errore alla base dell'arrivo della donna con la febbre, infatti secondo quanto ricostruito al suo ingresso in pronto soccorso la temperatura misurata dal personale di prima linea del Curto era di circa 36 gradi e mezzo e poi in ginecologia è arrivata a 38. Per evitare qualsiasi tipo di problema e con il personale sanitario dei reparti comunque al lavoro con tutte le protezioni del caso è stata decisa la chiusura temporanea in attesa dell'essito del tampone, il cui risultato è arrivato ufficialmente questa mattina ed è risultato negativo. Così il direttore sanitario Luigi Curto ha disposto alla riapertura del reparto di ginecologia.